Grazie Presidente, Ministro. La questione riguarda il cosiddetto part-time verticale, e cioè quella fattispecie di lavoro parziale che viene svolta per motivi organizzativi, non in modo omogeneo spalmato sui singoli giorni della settimana, ma concentrato su alcuni giorni. Ebbene, coloro che, appunto, ripeto, non per un proprio capriccio, ma per motivi organizzativi, e quindi si presuppone per aumentare l'utilità del lavoro svolto, della prestazione lavorativa svolta, e costoro, quelli che scegliono appunto il part-time verticale, si trovano una decurtazione nel calcolo degli anni contributivi e fini pensionistici, che invece chi usufruisce dell'altra fattispecie, quella orizzontale, non subisce. E quindi la domanda è appunto cosa si aspetta a sistemare questa questione, visto che anche la Corte di giustizia europea si è espressa a favore dell'interpretazione fatta dai dipendenti, e non di quella dell'Inps, che appare del tutto infondata, contraria anche al senso comune e al buon senso del generale, insomma, condiviso. Grazie. Grazie, deputato. Ministro Poletti, prego. Grazie, onorevole Busin. Con questo atto gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti discriminatori che sussisterebbero nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al pensionamento tra i lavoratori assunti col contratto di part-time orizzontale e quello di part-time verticale. A riguardo, nel sottolineare che la questione è già all'attenzione del Governo, voglio ricordare che la disciplina vigente prevede che i contributi settimanali ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Inps sono accreditati solo se il lavoratore ha percepito, nel corso della singola settimana, una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione. Tale disciplina può incidere sul requisito di anzianità contributiva utile per il raggiungimento del diritto alla pensione nei rapporti part-time verticali o misti. Infatti, nel caso di rapporto di part-time verticale o misto, in cui durante alcune settimane non viene prestata attività lavorativa o viene prestata attività lavorativa che dà diritto ad una retribuzione inferiore al 40% del trattamento mensile di pensione, per le relative settimane non vengono accreditati contributi a favore del lavoratore con una incidenza negativa sulla sua anzianità contributiva. Voglio ricordare ad ogni buon conto che questa incidenza negativa trova un temperamento nella disciplina che prevede per il trattamento verticale la possibilità di persecuzione volontaria della contribuzione per i periodi durante i quali non vi è stata attività lavorativa. Sulla questione sollevata, comunque, dagli onorevoli interroganti, che pone un problema obiettivamente effettivamente esistente, il Governo sta valutando la possibilità di intervenire in via amministrativa, anche tenendo conto delle indicazioni e degli esiti del diffuso contenzioso, così da superare qualunque discriminazione tra lavoratori part-time. Considerata la rilevanza degli interessi in campo, il Governo, qualora l'intervento in via amministrativa non risultasse praticabile, valuterà senz'altro le modalità di un apposito intervento normativo. In ordine al secondo quesito posto dagli onorevoli interroganti, faccio presente sulla base delle informazioni fornite dall'Inps che i lavoratori privati che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale nel periodo 2005-2013 sono circa 735.000, di cui 460.000 donne, e che i lavoratori pubblici nell'anno 2013 sono circa 40.000, di cui circa 34.000 donne. Grazie. Ministro, deputato Busin, prego, facoltà di replicare. Sì, io mi auguro che questa soluzione, che sia di tipo amministrativo o altro, sia quanto mai veloce e certa nei tempi, che non si rimandi una questione così, dal punto di vista della soluzione che si può trovare, semplice, a mio parere. Vorrei richiamare anche il modo in cui si espressa la Corte di Giustizia europea, che dice che l'interpretazione data dall'Inps a questo tipo di lavoro part-time verticale è in violazione della stessa clausola numero 4 della direttiva europea che disciplina gli accordi quadro sul lavoro parziale. Ecco, una volta tanto che l'Europa sembra, almeno alcuni organi della Comunità europea, sembrano esprimersi in un senso che è coerente con il comune sentire, con la logica e con il buon senso condiviso, almeno in queste occasioni cerchiamo di rendere conseguente anche il comportamento del Governo e dare a questa istituzione un senso anche alla nostra appartenenza a questa istituzione, che spesso viene vista come lontana e malata di burocrazia. Ribadisco anche il concetto che la scelta del part-time di tipo verticale è una scelta di tipo organizzativo, quindi niente viene tolto alla produttività e all'utilità della prestazione lavorativa da parte appunto del dipendente che sceglie appunto che insieme al datore di lavoro, che sia pubblico o privato, sceglie questa particolare fattispecie e che al contrario se per evitare questo tipo di penalizzazione fosse distribuita in modo orizzontale su tutti i giorni della settimana probabilmente provocherebbe anche dei danni dal punto di vista della produttività e della rendita dal punto di vista organizzativo. Insomma non mi sembra ci siano questioni che siano contrarie né dal punto di vista legislativo, né della comunità europea né del buonsenso e dell'organizzazione del lavoro dal punto di vista aziendale che ostacolino una presa di posizione decisa da parte del Governo.